E' andato benissimo, ci siamo trovati benissimo, hai fatto un bellissimo lavoro e il risultato ce l'abbiamo qua davanti. Molto disponibile, veramente bravo, anche gli aiutanti preziosi, compreso il piccolo. Il figlio che ha fatto una foto del nostro album. Molto belle, tre foto. Tre foto, ha inaugurato la sua carriera con il nostro album, quindi si ricorderà di noi, Monica e Gabriele, come primo lancio nella sua avventura, al quale facciamo tanti auguri.